omicidio bruzzese quattro arresti per il delitto di natale 2018 elezioni sindaci riconfermati a mondolfo mondavio gradara e mercatino conca vaccini si parte con la terza dose per gli over 80 festa dei fiori il bilancio degli espositori della 67esima edizione una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale che in questa serata di lunedì 4 ottobre apriamo con una importante notizia di cronaca ricorderete tutti l'omicidio avvenuto a pesaro la notte di natale del 25 dicembre 2018 quando in via bovio strada perpendicolare a corso di settembre fu ucciso a colpi di pistola marcello bruzzese il fratello delle collaboratori di giustizia legato al mondo dell'andrangheta calabrese girolamo bruzzese un omicidio che oggi è arrivato a una svolta perché dopo quasi tre anni di indagini sono stati formalizzati quattro arresti per altrettanti responsabili a vario titolo di questo delitto di stampo mafioso avvenuto nel cuore del centro storico di pesaro dopo quasi tre anni di indagini sono stati arrestati questa mattina i presunti responsabili dell'omicidio di marcello bruzzese un delitto che a pesaro funestò la serata di natale del 2018 con l'uomo fratello del collaboratore di giustizia girolamo biaggio bruzzese crivellato da colpi di pistola calibro 9 all'esterno della sua abitazione in via bovio in pieno centro storico a condurre le indagini carabinieri del ros supportati dai comandi provinciali di pesaro ancona reggio calabria catanzaro brescia napoli torino vivo valenza e del gis gruppo intervento speciale una maxi operazione che ha dato oggi esecuzione di provvedimenti di fermo di indiziato di delitto da parte delle procure di ancona e reggio calabria nei confronti di quattro persone riconducibili all'andrangheta calabrese e accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso omicidio porto e detenzione illegale di armi arriva dunque a una svolta un delitto che ha lasciato sgomento alla città di pesaro che avvertì il braccio delle cosche allungarsi in modo inquietante dentro un'isola felice apparentemente estranea alle dinamiche mafiose marcello bruzzese fu ucciso a pesaro dove alloggiava come destinato ad una località protetta di rifugio in quanto fratello di girolamo bruzzese personaggio che fu organico alla cosca crea della piana di gioia tauro dalla quale si dissociò nel 2003 dopo aver attentato nell'ottobre dello stesso anno alla vita del boss teodoro crea le indagini dei carabinieri del rossa hanno consentito di identificare michelangelo tripodi che assieme ad altri due indagati rocco versace e francesco candiloro fermati dalla dda di ancona è ritenuto uno degli organizzatori ed esecutori materiali del delitto le indagini hanno fatto luce su un omicidio scatenato dal movente della vendetta trasversale di stampo mafioso e hanno permesso di rilevare che i sicari in questione del tutto incensurati stessero pure progettando altri delitti un omicidio bruzzese al quale i carabinieri hanno attribuito una valenza strategica necessaria a rimarcare l'operatività della cosca crea abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla direzione della procura dei colleghi del ros che sono in capofila nell'indagine investigativa noi abbiamo dato il nostro supporto invece che ovviamente l'omicidio avvenuto in questo territorio la parte del reparto operativo ha collaborato in piena sinergia con il nostro raggruppamento operativo speciale. Indagine straordinaria per metodo per la tecnologia impiegata per la ricostruzione storica del fatto per aver constatato che anche dei soggetti che commettono un crimine così importante vengono fuori da insospettabili incensurati uno a Brescia di origine sempre calabrese e altri in Reggio Calabria in Calabria in sostanza a Palmi. L'operazione del delitto bruzzese diventa anche una gratificante forma di congedo per il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Ricciardi che dopo più di quattro anni ha lasciato oggi l'incarico al vertice del comando pesarese dove rimarrà comunque operativo con incarichi speciali. Il nuovo comandante provinciale sarà Gianluigi Cirtoli proveniente dal comando di Forlì Cesena per un passaggio di consegne avvenuto oggi ad Ancona alla presenza del comandante della legione Marche Fabiano Salticchioli. Per me oggi è un momento anche emozionante perché lascio il comando provinciale dopo oltre quattro anni di gestione di direzione di questo comando. Sicuramente il mio pensiero va ai cittadini ai quali noi carabinieri abbiamo dato il servizio, il servizio alle comunità. Ricordavo prima la pandemia che è stato un momento fondamentale per noi per rimarcare quello che è cos'è la prossimità per noi, la vicinanza ai cittadini. Ed ora ci occupiamo delle elezioni amministrative che hanno chiamato al voto nella giornata di ieri e in quella di oggi 28 comuni nelle Marche, 7 dei quali nella provincia di Pesaro e Urbino per eleggere altrettanti sindaci. Alle 15 di questo pomeriggio si sono chiuse le urne sulla votazione e lo spoglio dei voti è davvero agli sgoccioli del suo completamento. Alcuni comuni avevano già confermato il loro sindaco in quanto correvano con una lista unica senza oppositori al di là del raggiungimento delle quorum del 40% di affluenza. Un quorum che Omar Lavanna, Mercatino Conca, aveva già registrato ieri sera certificando il suo terzo mandato da primo cittadino con una affluenza al voto chiusa oggi col 63% di affluenza. Più bassa ma è comunque sufficiente alla conferma a sindaco del candidato unico Filippo Gasperi l'affluenza al voto a Gradara dove l'elezione per la riconferma a sindaco di Gasperi è appunto risultata valida con una cifra di poco inferiore al 47% di affluenza. Negli altri comuni è stata invece battaglia elettorale vera e ancora in corso in pochi casi. Nella maggior parte lo spoglio dei voti si è infatti già concluso. È il caso di Mondolfo dove Nicola Barbieri è stato già rieletto sindaco con l'84% delle preferenze rispetto all'unico sfidante Anteo Bonacorsi. È anche il caso di Mondavio dove il sindaco uscente Mirko Zenobi viene rieletto con il 71% delle preferenze rispetto allo sfidante Girolamo Martino. A Fossobrole c'era invece la battaglia più serrata con ben quattro candidati e quando manca ormai una sola sezione da scrutinare è ormai praticamente certa la vittoria per Massimo Berloni che gode di un consistente vantaggio su Fabio Londèi, Gloria May e Elisa Cipriani. Idem a Colli al Metauro dove con una sezione ancora rimasta da scrutinare Pietro Briganti ha abbondanti percentuali di vantaggio di sicurezza su Candio Curina. È invece attualmente in ritardo lo scrutinio di Fermignano dove si sfidano il sindaco in carica Emanuele Feduzzi e la sfidante Delfina Betonica. Questo 4 ottobre è una giornata importante anche per la campagna vaccinale della regione perché è partita oggi la possibilità di prenotarsi alla terza dose del vaccino per i marchigiani con più di 80 anni che da almeno sei mesi hanno completato la prima fase della profilassi vaccinale. Entra nel vivo la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid. Oggi è cominciata la possibilità di prenotarsi per i marchigiani con più di 80 anni che hanno già ricevuto da sei mesi le prime due dosi o la dose unica in caso di Siero Johnson & Johnson. Da domani martedì 5 ottobre cominceranno anche le somministrazioni negli hub vaccinali regionali che restano comunque aperti anche alle persone di ogni fascia d'età che devono ricevere ancora la prima dose. Si allarga dunque sensibilmente la platea delle persone vaccinabili con la cosiddetta dose booster dopo il via dello scorso 20 settembre alle categorie fragili convocate direttamente dai centri ospedalieri. Contestualmente alle vaccinazioni che partono anche all'interno delle RSA la terza dose in questi primi giorni di ottobre chiamerà in causa ben 111.000 marchigiani nati fra il 1941 e le precedenti classi d'età. Dopo settimane di vaccinazioni libere negli hub e nei camper si rimette in moto dunque anche la macchina operativa delle prenotazioni online da effettuare attraverso il sito della regione Marche o di poste italiane. Novità il fatto che per la terza dose verranno somministrati soltanto i sieri Pfizer e Moderna indipendentemente dal fatto se la prima fase della profilassi sia stata effettuata con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Una nuova fase della campagna di vaccinazione che si coniuga ad un confortante dato sulla portata dei contagi con l'ultima settimana di settembre chiusa a 407 casi in regione. Ovvero il dato più basso degli ultimi mesi con un tasso cumulativo sceso sotto i 30 casi ogni 100.000 abitanti. Un dato ulteriormente abbassatosi oggi in una giornata da appena 18 contagi nelle Marche complice la ridotta quantità di tamponi processati nel weekend, appena 828. Clamoroso caso di assembramento di giovani sabato sera quando quella che doveva essere una festa di compleanno con circa 100 invitati si è trasformata in un raduno di 500 giovani all'esterno del ristorante Country House Chigio in zona Tre Ponti. Attraverso un tam tam social decine e decine di macchine scooter si sono arrampicate per le colline pesaresi con centinaia di giovani che senza essere invitati alla festa hanno cercato di entrare nel locale all'insaputa dei titolari. Una situazione che poteva degenerare e che è stata sedata dall'intervento dei carabinieri che hanno impiegato circa un'ora per sgomberare la zona. E si chiude a breve questa sera la 67esima mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali. Una festa dei fiori che per tre giorni ha occupato piazza del popolo di Pesaro in un trionfo di colori, profumi e partecipazione come ci mostra a tal proposito il servizio realizzato da Edoardo Razzi. Si conclude oggi lunedì 4 ottobre la 67esima edizione della festa dei fiori. Qui in Piazza del Popolo l'accesso era possibile solamente attraverso il Green Pass. Ora però andiamo a sentire alcuni commenti dei 23 espositori che hanno partecipato alla fiera. Un bilancio molto positivo. Sabato c'è stato un po' di inizio per il fatto che la piazza era chiusa. Con il Green Pass abbiamo avuto un po' di difficoltà nel prime ore di assestamento. Dopo nel pomeriggio è stato un bel afflusso. Ieri è stato molto positivo. Abbiamo lavorato tanto. C'è stato un grande afflusso. Ha funzionato tutto molto bene anche con il Green Pass. Sono stati anche molto rispettosi tutti con le mascherine e abbiamo fatto un bel lavoro. Quanto è importante appunto questo evento per l'economia di un espositore? Questo evento è importante perché noi riusciamo a far conoscere le piante di questo periodo, come rinnovare il terrazzo, oltre ai ciclamini soliti che noi conosciamo tutte le viole, ci sono tante altre piante che si possono piantare in autunno. E quindi in questa occasione noi riusciamo a promuovere questo tipo di lavoro di piante. Quindi rimane molto molto importante questa fiera, sia per l'economia ma anche per il messaggio che noi diamo ai nostri clienti. Il bilancio per noi è positivo. Devo dire che nonostante appunto i controlli tra protezione civile o chi altro ha controllato, comunque l'affluenza è stata buona. Anche a livello di riscontro del pubblico devo dire che è stata una buona fiera. Il settore, bene o male, non ha risentito secondo me tantissimo del Covid, di tutte le varie chiusure che ci sono state. Per cui forse anche, essendo le persone più a casa, si sono rese conto maggiormente del fatto che avere un giardino, avere uno spazio verde, poteva essere un valore aggiunto. Per cui abbiamo visto più attenzione rivolto al verde rispetto a quanto magari ce n'era prima quando si usciva di casa, si tornava la sera e magari c'era un pochino meno attenzione verso le cose belle che si hanno intorno a tutti i giorni. Nonostante le restrizioni o il Green Pass o comunque queste nuove regole da seguire, da imparare, comunque la gente comunque è venuta, ha comprato, è serena, comunque sta rispettando le regole e stiamo vivendo questa nuova normalità, si può chiamare così. Però noi possiamo solo pensare in positivo, è stata una bella esperienza anche quest'anno e siamo molto contenti, sì. Ormai la gente ci conosce, ormai lo aspetta, aspetta da un anno all'altro le novità, aspetta comunque la gente, ci aspetta, ci riconosce e anche solo per fare due chiacchiere vengono e per noi è sempre importante, non solo per il lavoro, anche proprio per il contatto umano. A otto anni dal naufragio di Lampedusa, il Comune di Pesaro ha partecipato nuovamente alla giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti scomparsi in mare il 3 ottobre 2013. Presenti nell'isola siciliana, l'assessore Giuliana Ceccarelli e il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini in una giornata che coinvolge ogni anno comuni, comunità locali e scuole provenienti da tutta Europa. Tra loro anche i ragazzi dell'Iceo Scientifico di Pesaro che accompagnati dal preside Riccardo Rossini e dal professor Marco De Carolis hanno presentato sulla stessa barca, uno spettacolo che sarà presentato anche a Milano e durante i convegni di Pesaro e di Madrid. Una task force europea che ha il compito di elaborare un progetto che studi dinamiche e modalità di consegna delle merci nel cosiddetto ultimo miglio, una fase diventata sempre più frenetica e complicata e che ha sostanziali differenze da paese a paese. Se ne sta discutendo in queste ore a Helsinki dove sviluppare il progetto c'è anche l'Italia che nella capitale finlandese è rappresentata dalla CNA di Pesaro e Urbino con il segretario Moreno Bordoni e il responsabile di CNA FITA Riccardo Battisti. Sabato scorso è stato ufficialmente inaugurato a Sant'Angelo in Lizola il Cinemateatro Giovanni Branca dopo i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza che l'hanno interessato in questi mesi. Un rinnovato polo culturale per il territorio che è stato applaudito dall'amministrazione comunale alla presenza del consigliere regionale Andrea Biancani e del presidente della provincia Giuseppe Paolini. Ed ora lo spazio consueto dedicato alle vostre segnalazioni che vi invitiamo come sempre a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210, segnalazioni che come sempre più spesso ci capita si occupano di scriteriati abbandoni di rifiuti. È il caso delle foto inviatici da due nostri telespettatori che si riferiscono in particolare a due luoghi spesso soggetti a questo malcostume. Vi mostriamo a tal proposito il campo da basket di via Trieste come potete vedere ora un fenomeno che si ripete così come accade in un altro luogo quello di Villa San Martino in prossimità del parcheggio di via Scarlatti. Dunque questo fenomeno di malcostume che speriamo queste foto aiutino a debellare. E si sono conclusi ieri gli europei di ginnastica aerobica e acrobatica ospitati a Pesaro alla Vitrifrigo Arena. Un evento davvero extralarge, durato bene tre settimane e di grande rilevanza internazionale con ben pensate 32 nazionali presenti in città in 20 giorni circa. Marco Cadedu di Esatur Group, il comitato organizzatore dell'evento, ci traccia appunto un bilancio di questa Kermess intervistato ai nostri microfoni. Sono state tre settimane intense, tre settimane di lavoro molto duro ma anche di passione perché vedere nei volti dei partecipanti poi la soddisfazione e ricevere tantissimi complimenti per l'organizzazione sicuramente abbiamo raccolto i frutti di un lavoro biennale che ricordo è cominciato nel 2019 quando abbiamo vinto la candidatura e riuscire a portare 32 nazioni perché sono state 32 le delegazioni che sono giunte a Pesaro e essere riusciti a destagionalizzare anche la stagione turistica è sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio per il nostro comitato organizzatore. Questa città ha da anni questa vocazione agli eventi sportivi, questo ha una sua unicità anche in questa durata molto lunga che è quasi un unicum nel suo genere. Sì, siamo riusciti a raggruppare ben tre campionati europei, ricordo quello di aerobica, quello di acrobatica, age group competition che significa per atleti ancora in fase di sviluppo dal punto di vista agonistico e poi il campionato europeo vero e proprio di acrobatica. Tre settimane che come dicevo hanno contribuito in questo suo unicum come dicevi ad allungare la stagione turistica perché ricordiamo che sono arrivati 1.500 persone che hanno consentito a tantissimi alberghi di non chiudere i battenti il 13 settembre bensì il 4 di ottobre. 1.500 atleti che hanno praticamente riempito la città di Pesaro, città di Pesaro che purtroppo invece non ha risposto al richiamo di questo evento internazionale. alla Vitrifrigo Arena abbiamo avuto soltanto pubblico straniero, quasi zero gli biglietti staccati purtroppo per i nostri concittadini ma questo probabilmente anche a causa di una scarsa campagna di informazione da parte della stampa, a parte Rossini TV che ci ha sempre seguito dall'inizio alla fine, tutti gli altri organi hanno, non voglio dire snobbato, ma tralasciato di mettere in evidenza l'importanza di questo evento che ha trainato l'economia locale in questo periodo. I risultati di queste tre settimane principali? Guarda, nella settimana dell'aerobica l'Italia ha conseguito diverse medaglie quindi un motivo di soddisfazione anche per la Federazione Ginnastica d'Italia. Nell'acrobatica hanno fatto incetta le scuole classiche e tradizionali di questa specialità che sono Russia, Israele e Portogallo. Ancora sport, aspettando la VL che scenderà in campo alla Vitri Frigo Arena per il debutto casalingo stagionale mercoledì sera contro Trieste, quello appena trascorso è stato un weekend molto positivo per il calcio del nostro territorio con le vittorie da derby di Vispesero e Alma Juventus Fano alle spese di Fermana e di Castelfidardo. Nel calcio 5 Unitas Service rimaneggiata invece ha perso il Memorial Nino Pizza mentre gli Angels Spesero hanno ospitato al campo scuola di Via Respighi il Final Ball nazionale di flag football. Vediamo tutto in questo nostro servizio. Vince e convince la Vispesero che nel sabato del Benelli batte la Fermana 2-0 conquistando il derby, la sua prima vittoria casalinga e il primo confortante 0 alla voce goli incassati. Prova solida e corale dei Biancorossi in una contesa messa in discesa dopo 10 minuti dal rigore conquistato da Saccani e realizzato da De Respinis e poi messa in archivio nel cuore del secondo tempo dal 2-0 di Gucci trovatosi al posto giusto nel momento giusto per depositare in rete il palo interno colto da astrologo. Per la Vis è una vittoria che dà morale, peso in classifica e sostanza ai miglioramenti del gruppo di banchini. Quando pareggi, e noi siamo stati raggiunti per ventre volte, merititi di pareggiare, però quando vinci e vinci bene allora bisogna fare i complimenti. Quindi complimenti ai ragazzi che hanno fatto una vittoria importantissima perché comunque venivamo da un'altra mezza delusione quando prendi gol al 94esimo, ti lasci sempre delle scorie negative. Questa è una squadra che ha valori, io lo dico dall'inizio e poi ti devo dire la verità come ti ho detto che è il calcio della gente, quando la mia squadra non vince io soffro, sto male, so che c'è anche altra gente che sta male e però adesso oggi so che insieme ai ragazzi abbiamo reso felici tanti tifosi della Vis e quindi per questo sono contento. Non prendere gole, quindi il clean sheet come si dice è fondamentale. Abbiamo fatto delle scelte nelle ultime due partite un pochettino più di equilibrio e penso che questo abbia comunque dato un aiuto alla squadra. Dalla Serie C alla Serie D esulta anche il Fano che si prende i suoi primi tre punti stagionali battendo 2 a 1 il Castelfidardo al Mancini. Una vittoria firmata dai gol di Torturi al 36esimo e di Casolla al 61esimo. Vano il momentaneo pareggio di Cardinali del Castelfidardo. Due vittorie nel calcio e nel basket spera di aggregarsi alla comitiva anche la VL che con la vitrifrigorena occupata degli europei di ginnastica aerobica e acrobatica ha posticipato a mercoledì sera il debutto casalingo con Trieste. Per quanto riguarda il calcio a 5 l'Ital Service ha perso ai calci di rigore il quindicesimo Memorial Nino Pizza. A espugnare il palafiere è stata la L84 Torino in un match finito 1 a 1 con Salas a pareggiare il vantaggio ospite di Jonas e i piemontesi ad esultare 4 a 3 dal dischetto contro la squadra di Colini priva degli argentini Borruto, Bolo, Cuzzolino e Tavorda impegnati in finale ai mondiali di calcio a 5 in Lituania. Dopo il Memorial Pizza l'Ital Service si tuffa nel debutto di campionato previsto domenica alla Sky Arena di Salso Maggiore Terme contro Napoli. Pesaro nel weekend è stata però anche al centro del flag football nazionale. Il campo scuola ha infatti ospitato il Final Ball 2021 con gli Angels, organizzatori dell'evento che hanno chiuso al settimo posto. A vincere sono stati Grifoni Perugia promossi in prima divisione assieme all'altra finalista, Irinos Milano. E con lo sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale di lunedì 4 ottobre. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 vi propone un'altra bella puntata della TV dei viaggi questa sera dedicata al Senegal. L'informazione su Rossini TV torna come ogni mattina in diretta domani alle 7.20. Con buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa della provincia di Peso e Urbino, che dicevamo è in diretta alle 7.20 ma potete anche rivederla in replica alle 8.15, alle 11.20, alle 12.30, alle 14 e alle 18 o comunque recuperarla attraverso i nostri canali social. E canali social ma non solo, c'è anche l'app di Rossini TV, uno strumento sempre importante, facile da scaricare e utile per consultare i nostri programmi, le nostre notizie o semplicemente per mandare segnalazioni alla nostra redazione. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Da parte mia di tutta la redazione vi auguro il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.